tanti like per nancy che ha pensato e fatto questo video da sola con l'aiuto di mia mamma 1 2 3 ciao ragazze e benvenuto sul nostro secondo canale youtube io sono nancy non mi quadro perché sono in condizioni pessime senza trucco io e mia mamma vogliamo fare una ricetta light versione light del famoso salami al cioccolato mia mamma lo faceva sempre quando ero piccola e quindi abbiamo deciso di fare questa versione leggera senza burro e senza zucchero ok andiamo per il nostro salami di cioccolato abbiamo deciso di mettere frullini integrali biologici invece dei biscotti normali che sono il burro e olio di palma questi sono senza olio di palma e li trituriamo finemente questi sono i biscotti integrali tritati poi noi aggiungiamo per fare una versione più light non mettere solo biscotti la crusca d'avena che è molto proteica e leggera e poi metteremo anche il riso integrale soffiato ora mettiamo il cacao cacao amaro aspetta non l'ho pesato vabbè vabbè poi mettiamo il cioccolato fuso fondente all'85% senza burro e senza zucchero e senza zucchero voi vabbè potete utilizzare di qualsiasi marchio basta che sia almeno del 70% cacao così non c'è troppo zucchero ok andiamo via poi dopo quando viene carita glielo facciamo assaggiare vediamo com'è ovviamente questo è uno dei miei dolci preferiti perché c'è un chilo di cioccolato ah poi abbiamo fatto gli albumi questi sono gli albumi che andremo a mettere nell'impasto chiate bene il tutto perché si deve amalgamare bene deve essere un bel impasto unito tutti gli ingredienti uniti se magari vedete che gli ingredienti non sono uniti aggiungete un altro po di albume se ne vi piace più che il latte è un po di latte di soia di riso però poco se volete potete aggiungere anche un po di latte di soia di riso però poco altrimenti poi viene troppo molle e non si indurisce il salame quello deve essere un bel salame duro però sta venendo proprio bene vedete come si amalgamano bene tutti gli ingredienti le nocciole ci vogliono l'ultimo ingrediente sono le nocciole noi le mettiamo per fare una versione tipo nutella farà il sapore della nutella ecco le mandorle no quali mandorle? le nocciole mamma mi confondo ecco le nocciole triturate non le abbiamo triturate proprio come una polvere perché è bello prenderle in bocca un po' tostarelle tipo croccantini vai metti ok gira ma poi già si sente l'odore e il profumo del cioccolato come è buono dobbiamo mettere un po' di cucchiaia qualche cucchiaia di latte ecco ora mettiamo un paio di cucchiaia di latte per farlo ancora più amalgamato e composto al ceniro non si può mettere pure il latte di riso però si è mia mamma dice potete mettere anche il latte di riso di mandorla voi se vi piace il latte normale come volete voi è un dolce proprio semplice da fare dovete solo triturare gli ingredienti perfetto per una merenda dolce golosa ora facciamo la forma del salame ovviamente noi abbiamo messo molto cacao perché a noi non ci piacciono le cose troppo dolci ci piacciono un po' amare voi se vi piacciono le cose più dolce o aggiungete un po' di zucchero di canna integrale oppure diminuite leggermente la dose di cacao ecco qua un bel salame ma più che il salame sembra un pezzo di pane e li fa un po' più sottile e no no poi viene brutto invece così viene una bella fetta ah è vero quindi non lo fate troppo lunghe il salame perché così viene una fetta di un diametro maggiore insomma bella doppia è più sostanziosa a me piace delle cose grandi e sostanziose ecco qua ora chiudetelo bene avvolgete tutto il salame e chiudetelo bene con la carta alluminio mentre si dà la forma mentre si avvolge si dà un po' di forma mentre si avvolge si fa la forma più rotondeggiante diciamo chiudete bene non fate come noi chiudete bene con la carta alluminio con la carta alluminio e lasciate in figo per almeno 3-4 ore più ore sta e più il salame sarà buono yeah yeah ecco qui il risultato finale del salame l'abbiamo tagliato a fette belle doppie e ora le guarniamo è arrivata Carlito e vuole fare il suo tocco lo tocco con la cremina quella che vi ho fatto vedere nel video della colazione dai mettiamo tutta la cremina a cioccolato diventa più food porno guarda che dici? ti piace? no si più cioccolatosa guarda com'è bello che dici basta ancora? no abbonda abbonda non avevo dubbio ecco qua guarda com'è bello opera d'arte bellissimo ecco qua è bellissimo assaggiamo assaggia questa creazione mi sono sfoccata tutta come sono? ma è buonissimo salame a cioccolato ma davvero l'hai fatto tu? yeh yeh ma è buonissimo ma è buonissimo l'ha fatto mamma perciò è buonissimo io ho detto le dosi però è buonissimo buono ma ci sono anche le noccioline le nocciole danno sapore tipo nutella perciò l'abbiamo miss è buono mamma complimenti yeh avete capito dai che abbiamo preso la nostra scemitaggine lasciate tanti like tanti pollici in su per la mia mamma brava Nancy tanti like per Nancy che ha pensato e fatto questo video da sola con l'aiuto di mia mamma 1 2 3 yeh ciao ciao ciao